Allora il Vinsanto viene fatto con le uve Trebbiano che vengono a praticamente Viene fuori 10 litri di Vinsanto Bene, bene, è più lungo di questo di questo Ma per è finito la sigla di Superquattro, è preciso eh Vinsanto, cogli l'uva, la metti a seccare, la butti dentro il caratello 5-6 anni ed è fatto Vinsanto Bravo! Questo è per queste due dietro che non hanno pazienza Oh guarda, non ho neanche bisogno di tagliarlo, 20 secondi Vai, io c'ho freddo Te c'hai freddo Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Oggi dove siamo, Yaris? Perché si riparte come abbiamo iniziato l'altra volta Siamo in mezzo alla campagna Siamo in mezzo alla campagna ma dove? Il Pistoiese Cecina-Montevettolini Cecina-Montevettolini, bene, 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 bene Quindi oggi si sprospetta una camminata lunga con poche batterie Quindi cominciamo subito Ah non inizia bene stamattinata Lasciate le batterie di riserva della macchina Aspettare, io non so mi la sei di là Aspettare, donne, ferme Qui non si sa già in dove si deve andare Perché c'ho freddo Se vi siete vestiti e voi, eh, stamani Insomma, naso congelato La coda gelata, i piedi gelati, le mani gelate, tutto gelato Ma la coda gelata È il naso gelato E le orecchie gelate Tutto gelato Chi è? Scrivetelo nei commenti La camminata è più o meno di quanto tempo? Ma sono a sigaro Quattro ore, tre ore e mezzo Ma se si continua così Se si continua così almeno ci vogliono sette, otto ore Quindi, nonostante il tempo Che è abbastanza di merda Nonostante il vento Che speriamo non si senta grazie al mio gatto Qua su in cima Bellino Speriamo che venga fuori una bella giornata Yaris ha ancora le prese con l'orologio, lo vedo Io sono qui e vado a giocare E gioca lui, non è che cammina Le donne sono avanti a noi Non è una cosa normale E quindi, praticamente, siamo venuti per Non per il vinsanto Ma per la castagna C'è una festa qui E lui si fa prima il giro lungo Si gira intorno E poi si va a mangiare le castagne Probabile, Yaris? Sì Buono Ma sono nutrienti, spero Perché se il giro sono qualche ora Insomma, quelle castagne basta è che tu vuoi mangiare Castagne basta Stava raccontando della scelta fra il bibio Quando se hai una scelta Devi scegliere tra due bibi Sì Come nella Bella e la Bestia Vi ricordate quando Adria di Bella Deve scegliere di andare a destra o a sinistra Credo che avremmo dovuto prendere Aspetta un momento No, andiamo di qua Una strada è tutta luminosa E l'altra invece è tutta scura E il cavallo sceglie di andare verso quella scura Sì Anch'io avevo fatto quella scelta Perché C'è anche nelle folie dell'imperatore Se mi ricordo bene E per questo ha chinomer La nostra meta è laggiù E lui non ha studiato la storia Quindi non si sa che dirvi Vediamo un po' Per dire che si fa Quando saliamo a Montevettorini Si è messo a mangiare cosa lì Eh E poi si torna la castagna Mangia due castagne alla fine Beh Piani Sono i piani malvagi Via Facciamo pipì Poi fermiamoci per almeno mezz'ora Perché se no qui Maia Male Sta colpa sua Insomma Iaris Sto cammino degli idee Prova a studiare Si studierà per bene quella vai Non si può lasciare nulla al caso Eh no Assolutamente Anche perché E' il punto in dove si perderanno loro Sicuramente si perderanno Però noi con i nostri orologi E' la nostra tecnica E' tutta un'altra storia Con le stelle Ma conosci situazioni Pan di stelle Perfetto Si dà noia? Si fa bello Grazie Buon lavoro Eppure questi ci hanno ancora certe fama Non c'è più i raccoglitori di una volta Quelli che andavano a mani nude A raccogliere le olive Sì ma fanno un casino Poi danneggiano proprio la pianta E' tantissima Io non ho mai visto una cosa di genere Terzo chilometro percorso Piante di bambù Alla mia destra Dai aspetta Nooo Tutto è bello Un tonto Nooo Il paragone Una pianta Un'altra cosa Si vivente Eh? Questo è l'effetto Comerà io Perché tutte Nascosta dietro Aspetta 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 Andrebbe ander bene invece Aspetta Capiamo un secondo A few moments later Questa è semplicemente Un piccolo pezzettino in più Che vi ho fatto fare Per farvi vedere la natura La natura E' un genio del mare Abbiamo sbagliato strada Un'altra volta Poi Monte Vettolini Si avvicina Madonna della neve Questa è la Villa Melicia Eccola qua E' anche oggi Villa Melicia Questo sapo è bruttino però Che tristezza Quindi Monte Vettolini Fissate prima di venire Perché N'è nulla aperto Qui è tutto chiuso Anche il bar uguale La chiesa L'ex panerazzo comunale Tutto chiuso Però La girata è figa Da fare Allora torniamo a Cecina A mangiare le castagne Le castagne No io sto calibrando Il mio è fuori di Ah lo calibri manualmente Ma il GPS che ti dava? 181 Quanto ti dava il GPS tuo? 170 Giù Di tutto da meno E che c'è? Che avete? Mamme Sì Sai che era un po' Cante Vu mangiare Castagne Sì Delia Stai a detto si faceva oggi La giornata di Sì sì me ne ricordo Sì è vero vero Assolutamente Sono d'accordo con gli Aris È la giornata del digiuno Allora il vimbrunè ci piace Ma voleva anche la schiacciata Qualcuno mi ha detto Che c'era la schiacciata Oltre alle castagne Ma ti non ti ha detto una cosa del genere Non è assolutamente vero Esprimimi il tuo malessere Allora partiamo dal fatto che Stamattina non ho fatto colazione Perché qualcuno faceva pressava Ma pressava Ma povera stollina Perché a che ora ti sei alzata stamani? Io alle otto E che? Alle otto e mezzo Otto e mezzo Ma anche otto e quaranta Che tristezza Ma io ho lavorato tutti i giorni Anch'io ho lavorato tutti i giorni Non è vero ieri era a casa Sì Km 50 Ma perché si è tagliato parecchio probabilmente Palle come ho fatto a lasciare le batterie di riserva a casa Perché Eh vabbè succede Solo 128 metri dai È tutta salita Forza Ancora? Missione castagna Girata è finita Anche la batteria della telecamera Tra un po' è finita Andiamo a mangiare Un po' è finita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti